Ragazzi ma sarà una stronzata Ma vi pare che questa roba Fatela voi ma Ma vai affanculo Non ci credo Dai provate a farlo da casa Ok ragazzi provo dai Ho capito Ora parlo seriamente Mi sta ipnotizzando Mi respiro Due Adesso sposta il tuo sguardo Solo ed unicamente su uno dei due piedi Puoi scegliere destro o sinistro La cosa importante è un piede ma soprattutto un punto Di quel piede E tre mentre ascolti la mia voce e ti concentri su quel punto Inizi a percepire che all'interno delle due gambe Iniziano a passare quasi a Crearsi due palli completamente di ferro E non appena all'inizio a sentire Percepisci anche le gambe completamente rigide Quattro E più sono rigide le gambe Più inizi a sentire proprio come Se le tue gambe diventassero Completamente eradicate al terreno Come se delle radici uscissero dei piedi E andassero a sprofondare all'interno del pavimento E cinque Adesso inizi proprio a percepire Questa sensazione di pesantezza nelle tue gambe Se provi a muoverti Anzi Puoi provare a fare qualche passo Ma noti che è completamente impossibile Anzi Se solo riuscissi ad alzare il piede Noteresti che vorrebbe riscendere verso il basso Verso il pavimento Sarebbe completamente Anzi è completamente impossibile Fino a Adesso Puoi distogliere lo sguardo dei piedi Concentrarti Sul cellulare E ritornare a camminare Dimmi Sei riuscito a bloccare i tuoi piedi Fammelo sapere Ciao No